ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su telecittà deflette anche oggi la curva dei nuovi positivi covid in veneto nelle ultime 24 ore si contano 3.204 contagi ieri 3.245 mentre i decessi sono 11 riferisce il bollettino della regione migliora la situazione clinica con 942 posti letto occupati da malati covid nelle aree mediche meno 21 rispetto a ieri e meno 3 nelle terapie intensive per un totale di 40 il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia raggiunge 2 milioni 148.284 quello delle vittime 15.211 di attuali positivi in regione sono quasi 3.000 in meno rispetto a ieri e sono 61.850 al centro meccanografico di posti italiane nel quartiere cammin di padova è stato intercettato un plico contenente tre proiettili comprensivi di ogiva sul posto è intervenuta la squadra volante della polizia che ha ispezionato la missiva che al momento non è ancora stata aperta a coordinare le indagini e il sostituto procuratore d'angelo si tratta di un caso a suo modo particolarmente singolare nonostante in passato sia capitato altre volte di intercettare plichi contenenti qualcosa di sospetto questa volta infatti sulla busta è indicato anche il mittente un uomo residente a ponte san nicolò la lettera con i proiettili che porta il timbro di padova e dunque è stata spedita entro il nostro territorio è indirizzata invece a un uomo residente a villa urbana in provincia di oristano secondo le prime indagini della polizia si tratta di una persona che comunque non ha nulla a che vedere con l'ambiente politico e adesso passiamo alla cronaca epilogo scontato e drammatico nella vicenda di willy il ragazzo di lonigo che martedì si era tuffato nel lago di la varone senza più riemergere si terrano alle 10 di domani mattina sabato 13 agosto nel duomo di lonigo in provincia di vicenza i funerali di willy il 17enne ha negato nel lago di la varone lo scorso martedì è stato ritrovato senza vita verso le 14 e 30 di ieri il vicentino scomparso nelle acque del lago dopo un tuffo dal pedalò mentre era in vacanza insieme al fratello con un gruppo di scout sul posto arrivati anche i genitori del giovane originario della costa d'avorio ma residente con la famiglia a lonigo per tutta la giornata di mercoledì vigili del fuoco avevano scandagliato il lago a partire dal punto in cui era scomparso l'adolescente che non sapeva nuotare si erano mossi a bordo di un gommone setacciando con un robot dotato di sonare telecamere lo specchio dell'acqua reso inaccessibile per i bagnanti con un'ordinanza del sindaco le operazioni sono poi riprese nella mattinata di ieri fino al tragico ritrovamento e torniamo per l'ennesima volta a parlare del centro ingrosso cina i finanzieri del comando provinciale di padova sono tornati a far visita ad un'azienda presente all'interno del centro dove hanno sequestrato oltre 8.600 t-shirt ritenute contraffattere canti immagini di noti personaggi televisivi e brand italiani il titolare è stato denunciato l'operazione condotta dai baschi verdi del gruppo trae origine da segnalazioni e da una capillare attività info investigativa svolta sul territorio provinciale che ha consentito di individuare presso il centro ingrosso cina una ditta dedita tra l'altro al commercio di capi di abbigliamento in grado di alimentare un giro d'affari che in pochi mesi avrebbe fruttato diverse migliaia di euro le modalità di confezionamento delle t-shirt e l'entità di prezzi di gran lunga inferiori a quelle praticate sul mercato hanno immediatamente destato il sospetto degli operanti continuiamo adesso cambiamo argomento a parlare ne avevamo accennato anche ieri del progetto sicurezza che è in atto a jesolo dalla località balneare strade affollate nelle notti esolane a vigilare sul territorio è presente un gran dispositivo di forze dell'ordine anche ieri il presidio era presente in molte aree della famosa località veneta che era entrata in sofferenza negli ultimi due mesi guardia di finanza polizia ma anche polizia locale e carabinieri sono presenze costanti in divisa ma anche in borghese tengono monitorato il territorio e intervengono garantendo quella serenità che era venuta a mancare per la presenza di malintenzionati spacciatori e bande di ragazzini che creavano disordini la presenza degli uomini in divisa sta funzionando così come stanno dando effetti positivi anche le ordinanze del sindaco tra le quali ricordiamo quella anti alcol che vieta il consumo per le strade dopo le 20 e il di accesso all'arenile in orario notturno controlli severi anche sui minori ai quali ricordiamo il consumo di alcol è severamente vietato è tornato in carcere su decisione dell'ufficio di sorveglianza del tribunale di padova marino occhi pinti 57 anni un ex componente della famigerata banda della uno bianca condannato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata carlo beccari nel 1988 e dal 2018 è in semi libertà l'uomo è accusato di aver picchiato la propria compagna è stato così indagato per maltrattamenti già nel marzo scorso il giudice ha ora deciso la revoca della misura alternativa alla detenzione facendo rientrare dunque occhi pinti nel carcere due palazzi dove è rinchiuso fin dal 2000 al due palazzi l'uomo lavora per la cooperativa giotto interna al penitenziario queste attività gli avevano permesso di accedere a misure alternative per lo più al di fuori del carcere la relazione con la compagna che lo ha denunciato per maltrattamenti era iniziata ancora nel 2011 cambiamo ancora argomento partita da verona una squadra di vigili del fuoco a sostegno dei colleghi che da settimane lottano contro le fiamme sul carso vediamo il servizio nei giorni scorsi un modulo anti incendio boschivo è partito da verona alla volta di sandorligo della valle in provincia di trieste i rinforzi sono diretti nei pressi del confine con la slovenia per intervenire su incendi di bosco e di interfaccia a difesa di abitazioni e attività produttive la squadra è composta da nove unità con quattro veicoli un'autopompa serbatoio un'autobotte e due mezzi fuori strada per specifico intervento boschivo sul luogo la situazione è resa particolarmente difficile da labora che dalla mattinata è tornata a soffiare con forza a cegas prosegue le attività di monitoraggio della rete fognaria nel centro storico di padova la multi utility informa che nella serata di oggi venerdì 12 agosto dalle ore 21 provvederà a controllare lo stato delle condotti presenti in riviera ruzzante parallele al canale di santa chiara tale controllo verrà effettuato inserendo all'interno delle tubazioni una piccola telecamera collegata a una sonda che percorrerà tutta la lunghezza dei tratti di rete interessati ponendo particolare attenzione eventuali malfunzionamenti criticità e scarichi non ancora censiti per favorire il contenimento delle perdite idriche inoltre a cegas rimarca la presenza costante nel territorio del proprio pronto intervento anche nei giorni festivi e ricorda i cittadini il numero verde da chiamare per eventuali segnalazioni e richieste che è l'800 996 062 e adesso come ogni venerdì la linea passa all'appuntamento con la storia e alla nostra marisa sottovia ben ritrovati con la storia oggi parliamo di marostica e della partita a scacchi e allora conosciamo la sua storia la partita a scacchi è una rievocazione storica che si rifà a un evento del 1454 si racconta che due valorosi guerrieri rinaldo d'angarano e pieri di valonara si innamorarono perdutamente della bella lionora lionora era la figlia del castellano della città all'epoca i pretendenti per ottenere la mano dell'amata dovevano sfidarsi nei duelli ma nelle terre della repubblica di venezia serenissima c'era una legge che vietava il duello e così si organizzò la partita e lionora sarebbe andata in sposa al vincitore la partita si svolse nella piazza del castello con la presenza appunto del castellano e della figlia e poi ancora si è stata una festa fu una festa veramente grandiosa con dame damigelle musica arcieri e fanti e cavalieri forse nel racconto dell'evento c'è anche un po di leggenda però sta di fatto che oggi la festa viene rinnovata con grande entusiasmo si svolge nella piazza del castello ci sono figuranti viventi poi ancora ci sono tutti in costume e la manifestazione si svolge ogni due anni e negli anni pari è un evento di risonanza internazionale aggiungiamo inoltre che tra poco ci sarà anche l'inaugurazione del museo degli scacchi ci troviamo a marostica questa cittadina di oltre 14.000 abitanti soprannominata la città degli scacchi ma marostica è famosa anche per il castello articolato in castello inferiore e castello superiore molto celebri sono poi le mura questa cinta straordinaria che fu voluta e costruita dalla famiglia degli scaligeri nel 1372 quindi marostica si prepara all'evento che avrà luogo a settembre e come sempre sarà di successo e quindi auguriamo buona partita di scacchi e concludiamo dando un'occhiata al meteo la lieve instabilità di venerdì sul veneto è causata dal transito di una moderata depressione con aria relativamente fresca proveniente dall'europa orientale si inizia dunque con un clima fresco e alcune piogge seguirà una rimonta anticiclonica da sud ovest che porterà a rasserenamenti e temperature in ripresa a partire dei valori minimi per lunedì probabilmente quando transiterà da nord ovest una modesta saccatura ci potranno essere temporanei episodi di instabilità con alcune piogge moderate diminuzione dell'escursione termica diurna e tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione come di consueto vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di telecittà di Grazie a tutti.